Il PM Jacopo Augusto Corno ha aperto un'inchiesta sul suicidio in carcere di Gelindo Grisotto, l'omicidio reo confesso di Mario Testolin, il pensionato freddato con due colpi di fucile a Marano Vicentino. La procura dunque vuole fare chiarezza sul gesto estremo del muratore che era stato subito indiziato come principale responsabile dell'aguato omicida. Grisotto infatti era stato subito fermato e portato in caserma dai carabinieri di Tiene, dove aveva sostenuto un lungo interrogatorio durato ore. Una volta confessato l'omicidio, l'uomo era stato condotto poco dopo la mezzanotte nel carcere di Vicenza e rinchiuso in una cella di isolamento. Cinque lunghissime ore prima della scoperta del corpo, ormai esamine da parte di una delle guardie del carcere. È su questo lasso di tempo che l'autorità giudiziaria vuole fare chiarezza per capire se la disgrazia potesse essere evitata. L'uomo particolarmente provato aveva manifestato una condizione di fragilità psicologica. In passato aveva anche sofferto di disturbi depressivi, circostanze che avevano convinto il magistrato a richiedere una stretta sorveglianza da parte del personale del carcere. Una disposizione consegnata ai carabinieri contenuta nel cosiddetto biglietto di carcerazione. Una volta giunto alla casa circondariare del Papa, il protocollo anti-covid prevede che i nuovi detenuti debbano trascorrere un periodo di isolamento e anche per questo a Grisotto era stata assegnata una cella singola. È stato con il controllo con lo spioncino avvenuto poco dopo le cinque, il momento in cui la guardia ha scoperto il suicidio e ha chiamato i soccorsi. Poco dopo le otto sono iniziati i rilievi disposti dal magistrato che ha raccolto documenti, informazioni e foto utili per cercare di fare chiarezza. Sulla salma trasportata all'obitorio è stata autorizzata all'esecuzione dell'autopsia.